E' quasi una consuetudine, ma è anche bello ritrovarsi in Camera di Commercio per lo scambio di auguri. Non manca nessuna delle autorità civili e militari e il Presidente dell'Ente Camerale ne approfitta per ricordare, come si guardi già ora e sempre, alle Olimpiadi. La cortina è importante non solo per il territorio, ma per tutto il Veneto e per il sistema paese. Come sistema camerale ci stiamo impegnando con le categorie economiche e col mondo produttivo proprio per valorizzare questo evento. Abbiamo iniziato con dei progetti, adesso con l'insediamento del nuovo governo ci possono essere delle nuove opportunità e di conseguenza anche in questi giorni con la nascita della fondazione e della DMO è un ulteriore passo in avanti che si fa, quindi una regia unica di promozione, una concentrazione di sforzi che può portare a grandi soddisfazioni per la nostra provincia. Governo che era rappresentato da Massimo Bitonci, sottosegretario di un ministero a cui il governo Meloni ha voluto attribuire un nuovo nome delle imprese del Made in Italy. Bitonci che ha voluto sottolineare come fosse alla sua prima uscita in Veneto nella sua nuova veste governativa. Volevo partire in Veneto proprio da Belluno, una bellissima zona ma anche una zona produttiva, ci sono più di 16.000 aziende, prodotto interno lordo che è fatto dal settore ovviamente principe che è occhialeria ma anche la meccanica, il turismo. Credo molto che gli investimenti fatti per Cortina 2026 siano fondamentali per questo territorio perché sono investimenti di carattere infrastrutturale e servono soprattutto al rilancio di una zona che ha avuto anche dei problemi, ci sono dei problemi anche di crisi aziendale ma con questi importanti investimenti anche di carattere economico possono portare a un rilancio di un'economia locale che ha bisogno di impulso, ha bisogno di turismo, ha bisogno anche di rilancio di nuove attività.